10.000 euro, 3.000 in più dell'anno precedente. Il comune di Carmignano di Brenta punta sui giovani e decide di aumentare le borse di studio per gli studenti più meritevoli portandole da 19 a 32. I destinatari sono i giovani e giovanissimi, a partire dai ragazzi di terza media con cifre che andranno dai 150 euro per i 14 anni fino a 500 euro per i neolaureati. La selezione va fatta sul merito in base alla media scolastica e al voto finale, ha spiegato il sindaco Alessandro Bolis. Le domande di partecipazione sono già scaricabili dal sito del comune. Termine di presentazione venerdì 27 novembre.